Questo è un tema d'esame veramente che lascia la possibilità di spaziare e di metterci dentro un po' tutte le proprie competenze. Leggo la prima parte. Esempio, chiese, luoghi storici e artistico. Esempio, musei, mostre distribuiti nel centro storico della città. Quindi siamo in una città d'arte. Il committente, l'assessorato al turismo di questa unica città, non di tutte le città d'Italia. L'obiettivo, lo scopo, il motivo per cui si rivolge alla nostra società dei sviluppatori web è proprio quello di offrire ai turisti un servizio di fruzione di contenuti multimediali. Questi contenuti sono collegati a dei punti particolari della città e che si chiamano, vengono definiti poi punti di interesse, che riguardano o monumenti oppure appunto luoghi dove ci sono delle mostre, dei musei, quindi di interesse artistico, localizzati nel centro storico della città. Attenzione alle parole, eh? Non distribuiti su tutta la città, ma solo nel centro storico. Quindi, io suggerisco sempre, quando ci si trova di fronte a un tema che affronta argomenti che noi non conosciamo bene perché non ce ne siamo mai occupati, di farsi un'idea pensando a qualcosa di concreto. Per esempio, immaginiamo Torino, che è una città di medie dimensioni, in effetti. Può essere anche considerata una città d'arte, quasi tutte le città principali in Italia possono essere considerate delle città d'arte. E nel centro storico di Torino ci sono dei punti interessanti da visitare. Per esempio, c'è il Palazzo Madama, il Palazzo Reale, che sono dei punti di interesse di tipo monumentale, ma non solo, perché in realtà dentro questi edifici ci possiamo trovare anche dei musei e delle mostre. Quindi, questa distinzione è una distinzione che è un po' troppo rigida. Le chiese, la consolata, oppure le porte palatine, eccetera, eccetera. Quindi vogliamo costruire un percorso, cioè un percorso, una serie di strumenti, di multimediali, che possono accompagnare un turista. Poi, per il servizio, si è deciso di erogare i contenuti multimediali sotto forma di pagine web. Secondo, due possibili formati, denominati pagina multimediale base, pagina multimediale avanzata. Nella pagina multimediale di base sono previsti un video di presentazione breve del poi. Quindi, per ogni poi, quindi la progettazione, cioè qualcuno ci dirà quali sono i punti di interesse principali. Per ogni punto di interesse ci sarà un video di presentazione che dura un minuto e che è esclusivamente in italiano con i sottotitoli in inglese. E ci dovranno essere anche, insieme al video, tre immagini relative al punto di interesse con relativa didascalia in italiano e in inglese. La didascalia è il titolo che sta sotto l'immagine, là sopra. Invece, nella pagina multimediale avanzata bisogna avere un video di presentazione più approfondito della durata tipica di cinque minuti in una fra sette possibili lingue, compreso l'italiano. Poi una galleria di una ventina di immagini con la relativa descrizione, quindi non solo la didascalia. La didascalia è, per esempio, il nome del monumento, la descrizione invece è un testo più lungo che spiega qualche cosa in più, tipicamente intorno ai 500 caratteri. E sempre in una fra sette possibili lingue, compreso l'italiano. Ok? Quindi, i turisti possono accedere, cioè richiedere come servizio la pagina multimediale di base oppure la pagina multimediale avanzata. Non possono utilizzare entrambe, o uno o l'altra, e lo si capisce dopo. Perché il testo ci dice che il visitatore, acquistando il servizio in uno dei chioschi, vabbè, chioschi può essere qualunque cosa, non ci interessa tantissimo, dislocati nella città, riceverà un biglietto con cui potrà avere accesso ai due tipi di pagina sulla base di tre possibili tariffe. Questa frase è un po' scombinata, si poteva scrivere meglio, vuol dire praticamente che in base al biglietto che compri e quindi alla spesa che fai, avrai diritto a un tipo di servizio diverso. Allora, puoi pagare la tariffa base che sarà un prezzo inferiore, più basso, e con questo biglietto potrai fruire, utilizzare una pagina multimediale di base per ciascuno puoi, per ciascun puoi. Quindi, solo pagine multimediali di base. Oppure puoi pagare un po' di più tariffa intermedia e avrai, almeno, cioè avrai delle pagine sempre multimediali di base e tre di queste invece potranno essere avanzate. Quindi, solo tre pagine multimediali avanzate a scelta dell'utente. Quindi, scegli tu, l'applicazione ti deve consentire inizialmente quando entri di scegliere quali sono le pagine di scegliere per quale poi vuoi vedere le pagine avanzate. Poi c'è la tariffa piena che invece consente la fruizione di pagine multimediali avanzate per qualunque puoi. E, naturalmente, prima si parlava di lingua, quindi l'applicazione ti dovrà anche consentire, nel caso tu abbia la tariffa intermedia o la tariffa piena, di scegliere rispettivamente per queste tre pagine multimediali avanzate la lingua oppure per tutte le pagine multimediali avanzate la lingua. Poi, il biglietto acquistato riporta la password di accesso ai contenuti. Quindi, gli utenti accedono a questo servizio mediante password. Sono una password. Questa password è univoca per ciascun visitatore, si trova sul biglietto. E, vabbè, il biglietto contiene il tipo di tariffa pagata e contiene anche l'informazione sulla validità, perché la validità, acquistando il biglietto, la validità che si ha è giornaliera, quindi passata la giornata non puoi più accedere a questi contenuti. Leggiamo il seguito. Qua parla di funzionalità. Allora, in relazione alle funzionalità che il servizio dovrà offrire, l'assessorato richiede che siano soddisfatti i seguenti vincoli progettuali. Quindi, qua ci sta dando, prima ci ha descritto la situazione, lo scopo, no, di questa applicazione, a chi è rivolta, le sue caratteristiche. Adesso ci sta dicendo quali sono i vincoli di progetto. Allora, la consultazione delle pagine multimediali deve essere abilitata esclusivamente ai dispositivi mini tablet forniti all'atto dell'acquisto del biglietto. Quindi, qua ci sta dicendo che quando uno compra il biglietto riceve anche un mini tablet previa consegna di un documento di identità o di un numero di carta di credito valido. Quindi immaginiamoci la scena. Prima di tutto, questi, come li ha chiamati? Adesso ci arrivo, eh? Questi chioschi, questi infopoint non sono dei chioschi casuali perché chiosco poteva essere anche, il biglietto poteva essere venduto anche dalle edicole, poteva essere venduto dai tabaccai. No, ci sono già dei vincoli perché bisogna andare a fare una registrazione di un documento di identità o di un numero di carta di credito. Quindi è necessario avere già dei sistemi di sicurezza più avanzati di quelli che hanno un edicolante o un tabaccao. E poi ci sono questi mini tablet che vengono consegnati e quindi è necessario anche quando vengono restituiti controllare che siano integri, eccetera, eccetera, eccetera. Per facilitare l'aggiornamento periodico dei contenuti esistenti e l'inserimento di nuovi contenuti gli stessi non siano memorizzati sui dispositivi utilizzati dagli utenti ma sui sistemi server. Cioè, questo cosa significa? Significa che non è che questi contenuti, le pagine, eccetera, si trovano sulla memoria locale del dispositivo. Ma si trovano su dei server e il mini tablet si deve collegare, deve fare una connessione a uno di questi server o anche più server, dipende, dall'architettura e deve ricevere i contenuti, quindi, attraverso una sessione, una sessione, una connessione. E questo implica tutta una serie di problematiche di cui bisogna tenere conto e che sono problematiche soprattutto sistemistiche perché bisogna pensare che queste persone si spostano, no? Nella città. E come possiamo garantire loro un collegamento stabile con i server? Per esempio, questa è la prima domanda che mi viene in mente. E se ci fosse un'interruzione nel servizio proprio di connessione? Come rimborsi... cioè, come facciamo a porre rimedio a una situazione del genere? Spero che stiate prendendo appunti, eh? Vabbè che sto anche registrando. L'accesso alle pagine multimediali sia effettuabile solo dopo l'inserimento, all'inizio della visita, della password presente nel biglietto. L'accesso alle pagine multimediali relative ad un poi, eccolo qua, debba avvenire solo in prossimità o all'interno del poi stesso. Sono collegate queste due cose. Quindi significa che io ho questo mini tablet, però non me ne faccio se non sono vicino alle porte palatine. Io il video e la pagina multimediale che mi parla delle porte palatine non la vedo. Non è utilizzabile. E poi non si sa bene cosa voglia dire questo in prossimità. È una descrizione che non è che ci serve molto in prossimità. Bisognerebbe dare una definizione più precisa di che cosa si intende con prossimità. La restituzione dei dispositivi possa avvenire presso l'info point che ha in custodia il documento di identità. Quindi significa che se io ho fatto 10 km a piedi devo tornare indietro di 10 km per andare a riprendermi il documento di identità. Questo vuol dire. Però se invece uno ha lasciato il numero di carta di credito può consegnarlo in qualunque infopoint. Qua si apre tutto un discorso sulla gestione della consegna e della riconsegna di questi dispositivi. Ok? Perché è soprattutto anche della sicurezza dei dati che vengono lasciati. quindi qua si può parlare di sicurezza delle informazioni. Quindi in un testo come questo ci sono veramente tantissimi spunti per fare per realizzare un progetto che secondo me non ha senso proporre un esame di maturità perché in quelle 4-6 ore a disposizione non si può nemmeno fare un minimo di ragionamento perché avete visto che ci sto mettendo io un'ora solo leggere il testo ragionandoci sopra. Ma io sarò un po' lenta va bene però in una situazione di esame scritto di maturità con l'attenzione il caldo la confusione capire questo testo cosa dice tenete conto che io l'ho già letto in precedenza quindi non è la prima volta e focalizzare l'attenzione sui punti chiave difficilissimi quindi una prima strategia da adottare quando si risolve un problema di questo tipo quando bisogna analizzare un testo è cercare di essere molto concentrati ridurre al massimo il rumore le distrazioni e ragionare molto su quello che si sta leggendo rifigurandosi immaginandosi una situazione reale concreta è l'unico modo proprio immagino appunto la città di Torino mi immagino appunto le porte palettine immagino la persona io e me stessa con il mini tablet in mano cosa devo fare cioè in questo modo se uno riesce a visualizzare la cosa questo aiuta poi vediamo le richieste che vengono fatte nella prima parte il candidato analizzi la realtà di riferimento fatte le opportune ipotesi aggiuntive che ci vogliamo sempre che sono tutte quelle cose che mancano e che dobbiamo aggiungere a noi oppure tutte quelle cose che sono ambigue per le quali noi dobbiamo prendere una decisione individui una soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea a sviluppare i seguenti punti e vediamo quali sono i punti il progetto anche mediante rappresentazioni grafiche dell'infrastruttura tecnologica e informatica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso dettagliando l'architettura della rete e le caratteristiche del o dei sistemi server motivando anche la scelta dei luoghi in cui installare questi ultimi le modalità quindi qua questo è un argomento di sistemi le modalità di comunicazione tra server e dispositivi consegnati ai visitatori descrivendo protocolli e servizi software da implementare per gestire la rete e fornire le pagine argomento sistemi poi gli elementi cioè questi sono cose che dovreste affrontare i sistemi e per le quali dovreste esercitarvi con la materia sistemi che si occupa proprio dell'architettura dell'infrastruttura della rete dell'architettura della rete intesa come elementi tra di loro collegati che consentono alle informazioni di essere trasferite a distanza per quanto riguarda questo punto B siccome si parla di server e di dispositivi potrebbe centrare anche un po' informatica perché si potrebbe dire qualche cosa in merito all'architettura software utilizzata su questi dispositivi e più che altro l'architettura software dell'applicazione in sé non sui dispositivi ma si potrebbe dire quali programmi girano su queste macchine ma anche l'architettura quando si parla di architettura software vi farò poi una lezione su questo più avanti quando si parla di architettura software ci si riferisce alle unità funzionali principali dell'applicazione e a come queste interagiscono fra di loro tipicamente client server database quindi sono tutti i sistemi software che in base al modo in cui sono messi sulle macchine al modo in cui comunicano tra di loro determinano l'architettura software punto c gli elementi dell'infrastruttura utili a limitare la fruizione delle pagine multimediali esclusivamente in prossimità o all'interno dei pochi a cui si riferiscono e qua bisogna studiare una soluzione che può è sicuramente una soluzione che deve tenere conto della posizione dell'utente del mini tablet e quindi bisogna andarsi a cercare qualche cosa in rete poi il progetto punto 2 il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto in particolare si richiedono il modello concettuale e il corrispondente modello logico è quello su cui io vi ho preparato dall'inizio dell'anno quindi bisogna fare un'analisi del testo finalizzata per quanto riguarda informatica da un lato all'individuazione dei dati e le loro correlazioni dall'altro lato le funzionalità che l'applicazione deve avere le funzionalità quelle appunto che vengono fornite agli utenti poi punto 3 eccolo qua la progettazione delle pagine web che consentono visto che c'è che consentono all'utente in possesso di biglietto con tariffa base la fruizione dei contenuti multimediali relativi al poi presso cui si trova codificandone una porzione significativa in un linguaggio scelta ci sarebbe poi anche da valutare se non sia necessario fornire anche una mappa o cartacea insieme al mini tablet oppure in formato elettronico perché se devo andare da un punto all'altro devo sapere anche qual è la strada da percorrere e di questo non se ne parla dentro questo testo però se ci pensate è fondamentale sono uno straniero sono in una città che non conosco devo andare dal punto A al punto B cioè devo andare da un monumento all'altro ma qual è la strada da fare non è che posso chiedere a tutti le persone in giro anche e soprattutto se non parlo la stessa lingua quindi devo avere una mappa che mi indica qual è il percorso migliore da fare ecco vabbè codificandone una porzione significativa in un linguaggio a scelta questo vi lascia massima libertà qua potete mettere allora facendo l'esercizio qua possiamo usare il computer e possiamo quindi realizzarle proprio interamente le due pagine anche con dei contenuti placeholder quindi dei contenuti finti dei testi finti eccetera però quando si lavora invece su carta come succede quando ammesso che all'esame di maturità vi facciano fare una cosa del genere ma supponiamo che sia così allora si sceglie la strada più semplice quindi qua vai con l'html vai con il css cioè potete veramente mettere un po' di codici in un qualche modo un po' di codici riuscite a tirarlo a tirarlo fuori punto 4 l'analisi di massima delle possibili modalità di gestione delle tre fasce tarifarie delle opzioni quindi delle opzioni offerte all'utente per la scelta dei tre poi nel caso della tariffa intermedia e della scelta della lingua nel caso delle tariffe intermedie piena nel tema d'esame del 2019 c'era anche una seconda parte dove veniva chiesto di rispondere obligatoriamente a due quesiti a scelta fra questi quattro normalmente erano strutturati in questo modo c'era un punto che andava ad aggiungere qualche cosa al database o alla parte diciamo di informatica di fatti qua viene chiesto in relazione al tema proposto nella prima parte si vuole offrire ai visitatori la possibilità di inserire via web un commento e un voto di gradimento su ogni poi visitato quindi qualcosa di più social effettuata a tal scopo un'opportuna integrazione della base di dati si realizzi codificandole in un linguaggio scelta una pagina web che consente la visualizzazione della media dei voti ricevuti da ciascun poi si tratta di fare un po' di SQL e poi visualizzarle una pagina poi c'è questa seconda domanda che invece dunque in relazione al tema proposto della prima parte si discuta la possibilità di allargare la fruizione dei contenuti multimediali e anche i dispositivi personali degli utenti in particolare si analizzano le seguenti due ipotesi alternative uso limitato ai soli dispositivi mini tablet forniti all'atto dell'acquisto del biglietto come sopra descritto si individuino in caso possibili soluzioni per impedire l'accesso alle pagine multimediali attraverso dispositivi non forniti dagli infopoint vabbè e questo è il caso che abbiamo già visto bisogna solo appunto fare in modo che nessuno acceda a questi contenuti da un dispositivo personale invece l'alternativa ipotesi alternativa è quello di consentire ai dispositivi personali degli utenti di accedere a questi contenuti si descriva quindi una possibile integrazione del servizio volta a consentire la fruizione dei contenuti direttamente ad un singolo dispositivo di proprietà del visitatore pur mantenendo i vincoli di fruibilità in base alla tariffa associata al biglietto nella realizzazione punto 3 nella realizzazione gestione di una base di dati accessibili da categorie di utenti quindi qua c'è un punto che non c'entra praticamente nulla con il testo precedente ma che chiede di andare ad analizzare una situazione costruendo un database quindi leggetevelo poi voi lo lascio non mi interessa adesso e anche questo non mi interessa perché è una domanda sulle vpn quindi sono due tematiche proprio totalmente scollegate da quello che ho letto fino a dopo